Io non ho paura, un messaggio forte e chiaro arriva dalla gelateria di piazza Duomo a Piacenza in una città semideserta che risente del panico da coronavirus. La titolare ha deciso di esorcizzare così la psicosi di questi giorni con un cartello colorato in bella vista sulla vetrina, un invito a non lasciarsi scoraggiare dal momento difficile. Stamattina Piacenza fa ancora i conti con la preoccupazione che ha bloccato in casa tanti cittadini, incassi crollati del 70-80% negli esercizi pubblici e l'obbligo di chiusura alle 18 imposto da un'ordinanza sta provocando effetti pesanti sulle attività che guadagnano soprattutto di sera. Ritengo che sia un provvedimento giusto da un certo punto di vista per evitare troppi allarmismi. Penso che venga un po' meno tutelata la salute di chi fa questo turno di lavoro, nel senso che comunque noi lavoriamo qua dalle 8 di mattina alle 4 di pomeriggio e non è che in quella fascia oraria lì non ci si contagia. Meglio così che il gioco totale, non ce ne leggeva nessuno. Benvenga per l'amor del cielo, se può servire va bene ecco. Secondo me o si chiude tutto il giorno o altrimenti ha poco senso, però non sono un'esperta. C'è chi ha deciso di chiudere per assenza di clienti. Dato che lavoriamo prevalentemente sul serale e abbiamo visto che in questi giorni l'affluenza del mattino è praticamente nulla, abbiamo deciso di chiudere tutta la giornata fino al primo di marzo. Penso che sarebbe stata una cosa forse più giusta l'H24 sull'orario. In via 20 settembre i cittadini cinesi che di ritorno dal loro paese a gennaio si erano già messi volontariamente in quarantena hanno di nuovo chiuso. La maggior parte degli esercenti resiste per dare un segnale di positività, è stato però inevitabile mettere in ferie alcuni lavoratori. Noi siamo degli ottimisti inguaribili, infatti insieme all'associazione abbiamo preferito tenere aperto per dare un segnale anche di positività alla collettività e tutto nonostante come vedete i locali sono vuoti. Sperando poi un aiuto dalle autorità con ammortizzatori sociali piuttosto che un aiuto sulle tasse o quanto deve essere.